Tutto quello che devi sapere prima di acquistare Fae Farm. Ciao a tutti ragazzi, io sono Lightning e bentornati o benvenuti in questo nuovo video. Ormai siamo agli sgoccioli perché domani 8 settembre uscirà questo titolo che personalmente so davvero tanto aspettando. Ma prima di tutto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Se volete sapere se porterò questo titolo, la risposta è sì. Non ho ancora deciso come perché devo provarlo per capire effettivamente se il gioco merita oppure no, però sì, domani troverete sicuramente dei video sul mio canale o sul mio secondo canale. Quindi attivate la campanella per non perderveli. Oggi andremo a vedere in che cosa consiste il titolo. In modo tale che se siete indecisi o non sapete di che cosa stiamo parlando, beh, questo video vi servirà per pensare a un futuro acquisto. In ogni caso vi ricordo che è già uscito un video dove andiamo ad analizzare i vari trailer che sono stati presentati da Nintendo o comunque da Fae Farm stesso per capire se il gioco fa per voi oppure no. Ma partiamo dall'inizio. Innanzitutto è un gioco a pagamento, quindi niente free to play questa volta come su Palia. Dobbiamo pagare per acquistarlo e qui abbiamo due possibilità. Se lo compriamo su Switch abbiamo una sola versione al prezzo di 59,99€. Nel precedente video vi ho detto che il prezzo era un po' ambizioso, ma nella versione Switch sono inclusi i DLC futuri. Dovrebbero essere due e usciranno verso fine anno 2023 e inizio anno 2024. Quindi in quel caso se prendete la versione Switch a 60€ che è unica versione non dovrete poi acquistare i DLC futuri. Invece la seconda opzione è quella su Steam. Qui avete due versioni, la Standard Edition al prezzo di 39,99€ o la Deluxe Edition al prezzo di 59,99€, lo stesso prezzo di Switch. Cosa cambia? La Standard è solo il gioco base senza i DLC futuri, mentre la Deluxe Edition è uguale a quella di Switch, quindi possiede i DLC che usciranno in seguito. Sarà possibile acquistare i DLC successivamente se prendo la base? Sì, ovviamente, altrimenti non avrebbe senso. Quindi se volete provare prima il titolo e comprare la Standard Edition solo su Steam, ragazzi, su Switch non avete alternative. Potrete successivamente acquistare le DLC al costo di 20€, quindi quello poi dipende da voi. Sotto nei commenti vi lascio il link a Amazon per preordinare il titolo se volete prendere la versione su Switch. Ma adesso andiamo a parlare proprio del gioco. Che cos'è Fae Farm? A me piace definirlo un po' Animal Crossing con la magia, perché è sempre un simulatore di vita dove dovremmo appunto decorare, creare le cose, andare all'avventura, eccetera, però a differenza del classico simulatore di vita che può essere Animal Crossing, qui abbiamo la magia. Magia che verrà sfruttata con la creazione di pozioni o comunque abilità che ci serviranno per affrontare le varie missioni nel gioco. A differenza di Animal Crossing non ci sarà un'intera città da creare e decorare, ma avremo la nostra fattoria dove dovremo prenderci cura degli animali, delle verdure, dei fiori, eccetera. E con questo non sto dicendo che su Fae Farm avremo solo la fattoria, perché anche qui sarà disponibile un mondo molto vasto da esplorare, ma avremo anche una città con una piazza dove verranno fatti degli eventi stagionali, eccetera. Ovviamente potrete creare il vostro personaggio e personalizzarlo a piacimento. Sarà possibile anche giocare online con i vostri amici, per un massimo di 3 amici, quindi un totale di 4. Ovviamente se avete la versione su Switch servirà l'abbonamento a Nintendo Switch online, invece su PC non vi servirà nessun abbonamento. Sarà comunque possibile giocare insieme indipendentemente dalla versione che avete acquistato, quindi se un vostro amico l'ha preso su PC e voi l'avete preso su Switch potrete tranquillamente giocare insieme. Per quanto riguarda le decorazioni sarà possibile decorare sia all'interno che all'esterno della nostra fattoria. Infatti come state vedendo nell'immagine dietro di me abbiamo l'albero di Natale che sicuramente si sbloccherà nel periodo dell'evento natalizio. A differenza di Animal Crossing in questo gioco abbiamo l'esplorazione. Possiamo esplorare diverse zone della mappa e trovare animali da portare nella fattoria. Questi animali ci daranno risorse come ad esempio la lana e tanto altra ancora. E non tutte le creature che troveremo saranno amichevoli, in alcuni casi ci toccherà anche combattere. In Fee Farm avremo anche una storia principale, ma saremo noi a decidere quando e come progredire nella storia. Andando avanti nella storia sbloccheremo nuovi personaggi e nuove relazioni. Sarà possibile partecipare ad appuntamenti e persino sposarsi. E queste sono tutte le informazioni basi che dovete sapere sul titolo per capire se questo gioco fa il caso vostro oppure no. Personalmente è un titolo che aspetto veramente da tantissimo tempo prima ancora che venisse annunciato nel Nintendo Direct di giugno. Quindi sono veramente incuriosita da questo titolo, promette bene. Soprattutto perché in questo periodo non ci sono tantissimi giochi nuovi da giocare. Quindi io spero veramente che questo titolo mi prenda veramente tanto e mi accompagna fino all'uscita di Detective Pikachu, Mario Wonder, Mario RPG, eccetera. Da domani se la copia non mi arriva in ritardo lo troverete sul mio canale. In ogni caso sotto nei commenti fatemi sapere se acquistate il gioco, lasciate un like, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella così non vi perdete i video quando escono. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!